Nuovo giorno metà settimanale di GTA V Online, valido dal 24 di ottobre al 31 di ottobre. Ritornate le zucche di Halloween, l'autofantasma e altre creature soprannaturali. Il veicolo al palio al casino questa settimana è la Coquette Classic, mentre per i veicoli in esposizione e il concessionario di lusso abbiamo la Benefactor Bosch Hammer e la FR36. Mentre per la corsa premio abbiamo la Rineart Top 1 nelle gare Los Santos Carmitte per due giorni di fila. Mentre in uno showroom di Simon troviamo la Cognacenti Cabrio, la Lance Stalker XL, l'XLS, la Ruston e la Sanctus. E per finire i veicoli bersagli da rubare disponibili presso la rimozione abbiamo l'Entity MT, la Stinger GT e la Camacho. Due per tv sulle Deathmatch di Halloween e eventi Freemod e Challenge, cash di Geralt, rapina e camion blindati. E' uno sconto finale 30% sulla Lurcher, la Brigham, la Frankenstage, la Sanctus, la Hadder, la Clique Wagon e l'Infernus Classic. Per questo video aggiornamento settimanale è tutto, vi invito a lasciare un follow.